cari amiche nuovo tutorial oggi un cappello con il punto granny sono molto contenta di averlo realizzato perché è facile è un punto in cui molte persone piace tantissimo mi piace realizzare questo punto poi abbiamo tantissime cose giacchini abbiamo maglie con il punto granny per cui ci piace realizzare anche anche un bel cappello ma bisogna avere un pochino d'attenzione perché comunque quando andiamo a realizzare gli aumenti la parte superiore del cappello bisogna fare molta attenzione perché poi alla fine andando a lavorare con il punto granny senza aumenti diciamo prendiamo un bel po di centimetri che non ci dobbiamo diciamo da questa parte seguite con attenzione il tutorial io vi farò vedere con un altro colore allora io ho lavorato con il tre e mezzo il cappello lavorato con il tre e mezzo ma potete lavorarlo anche con il 4 infatti nel tutorial ho lavorato con il 4 vi ho fatto vedere la parte superiore e poi invece questo cappello lavorato con il tre e mezzo leggermente più compatto però non aveva un diciamo io ho tirato abbastanza il filo alla fine non aveva tanti centimetri di più dalla parte superiore mi raccomando i 14 centimetri che poi andando a lavorare senza aumenti prende qualche centimetro in più per cui questo ci tengo a dirlo e per la parte sottostante se vi piace ondulato allora dovete fare più aumenti io cerco di essere più precisa possibile avete tutte le misure anche per adattare un nuovo un nuovo filato che voi preferite il filato che ho scelto e lo zefilo ci sono tantissimi tantissimi colori dal celeste questo color cielo col celeste c'è nero il lilla il verde fino tanti colori io ho scelto il color questo qui cielo azzurro un azzurrino bellissimo e questo filato al 54 per cento di cotone il 36 per cento di viscosa il 10 per cento di poliamide sono 200 grammi 640 metri consigliano i feri il 34 l'uncinetto 3 e 4 allora adesso qui vi lascio poi il quantitativo di questo filato per realizzare il cappello iniziamo subito il progetto uncinetto 3 e mezzo iniziare il nostro progetto vado a realizzare un cerchio magico entro sotto al filo e realizzo una catenella ora vado a realizzare 3 catenelle 1 2 3 ora vado a realizzare una maglia alta entro sempre dentro il cerchio e una catenella una maglia alta e una catenella devo terminare il cerchio dopo aver lavorato 10 maglie alte con una catenella di separazione una volta che abbiamo ultimato andiamo a realizzare una catenella e vado a chiudere tiro bene il filo dietro che poco non ago lo vado a passare più volte entro nella terza catenella contando dal basso con una maglia bassissima vado a chiudere una volta che abbiamo chiuso con una maglia bassissima io vado a spostare qui nella catenella con una maglia bassissima vado a realizzare entrando proprio sotto allo spazio della catenella sotto vedete vado a realizzare una maglia bassa una sopra l'altra che corrisponde a una maglia alta e di nuovo una maglia alta per cui per ogni catenella vado a realizzare due maglie alte e rientro sullo stesso punto vedete qui sono come degli aumenti ma sulla catenella faccio vedere da vicino ora proseguiamo per tutto il giro quando abbiamo terminato di lavorare tutte le maglie vado a chiudere con una maglia bassissima mi sposto ancora sulla maglia successiva con una maglia bassissima fino ad arrivare dire tra le due gruppi di due entro sotto maglia bassissima e vado a realizzare una maglia alta in questo caso ne realizzo 3 la seconda e la terza adesso vado sull'altro spazio salto le due maglie alte entro tra i due gruppi di due entro il proprio con l'uncinetto e vado a lavorare 3 e ancora per tutto il giro e adesso vado a chiudere come ho terminato tutto il giro vado a chiudere con una maglia bassissima mi sposto sempre in maniera che poi non si vede la riga di congiunzione mi vado a spostare che lo preferisco vado proprio dove c'è tra il gruppo di 3 e 3 maglie eccole qui che cosa faccio vado adesso a lavorare una una maglia alta ora devo fare degli aumenti per cui adesso lavoro una maglia alta e la seconda maglia alta ma poi vado a lavorare qui ci sono le tre maglie no mi avvicino le tre maglie vado a lavorare tra la prima e la seconda con l'uncinetto qui tra la prima e la seconda lavoro 2 maglia alta e la seconda con l'uncinetto qui tra il gruppo di 3 che è qui lavoro in due maglie proseguo sempre con l'aumento lavorando tra le due maglie nel gruppo successivo per cui vado ad alternare questi punti fino a completare tutto il giro vedete ecco qui si vede forse un pochino meno entro nello spazio di tre e sulle prime la seconda spazio di tre la prima e la seconda modo ad alternare fino a completare tutto il giro adesso che ho concluso tutto il giro mi sposto sempre con delle maglie bassissime anche quel centro va bene va a lavorare il punto granny per cui 3 maglie alte su ogni poi aumento che abbiamo fatto adesso vi faccio vedere vado a realizzare le tre le tre maglie adesso che c'è lo spazio con le due e le tre e lavoro 3 maglie qui vado dove ho fatto lo spazio comunque degli aumenti li vado a lavorare e vado a lavorare qui qui su ogni gruppo sia di due e di due e di due vado a lavorare il punto granny di tre vedete dove c'è solo il gruppo di due per cui non ci possiamo sbagliare vado a lavorare tutto il giro vado a lavorare due giri in questo modo arco due giri di punto granny con un gruppo di tre maglie alte una volta che abbiamo completato e abbiamo realizzato i due giri con il punto granny andiamo a chiudere come abbiamo fatto prima e vado a realizzare 1 2 3 maglie alte poi sul punto successivo vado a realizzare 3 le alte e vado a realizzare un aumento all'aumento lo realizzo tra la prima e la seconda maglia e realizzare 2 maglie 1 e 2 poi vado a lavorare col punto successivo un gruppo di 3 lo faccio il primo realizzo il secondo e faccio l'aumento tra la prima e la seconda maglia 2 maglie questo per tutto il giro poi andiamo di nuovo a lavorare normalmente il punto granny per cui quando abbiamo terminato io già mi sono portato avanti con un altro colore io vi dico che questo l'ho fatto con l'uncinetto 3 mezzo che più compatto di questo che è una lavorazione con il 4 per questo che ho fatto mettere all'inizio dovete stare attente quando poi andata a fare gli aumenti se lo volete fare proprio con il 4 oppure perché col 3 mezzo ma avete una mano molto morbida oppure non tenete bene la tensione perché il punto granny tende ad allargarsi molto state attenti alla circonferenza per cui al limite l'aumento non lo fate andate a lavorare poco il punto granny invece con il tre e mezzo ho lavorato ora vi faccio vedere fino all'aumento sono arrivata all'incirca 14 cm di diametro perché anche qui insomma diciamo che ci siamo quasi però dopo va a prendere parecchi parecchi centimetri calcolando che qui e 14 ma calcolando che prendendo da qui fino all'aumento sono sette righe da 7 giri da lavorare a vi faccio vedere mettiamo dritto bene dove all'aumento e fino qui ed è un 14 circa perché 7 cm e un 14 però 14 ma poi vado a lavorare sempre appunto granny per cui quando arrivate a una circonferenza 14 controllate un pochino con con la mano con l'uncinetto nel senso la tensione perché rischiate che poi vi è lento il cappello io ho preferito poi lavorare con il tre e mezzo comunque allora quando sono arrivati alla larghezza del tre e mezzo andate a lavorare sempre col punto grandi di fermate vi fermata 16 cm potete fare anche 17 18 e troppo perché comunque vi copre fino alle alle ciglia e poi se dobbiamo fare comunque la falda poi non riusciamo a farla per cui ci fermiamo a 16 cm ci fermiamo e iniziamo degli aumenti allora per quanto riguarda gli aumenti possiamo decidere di farne molti se vi piace più diciamo morbido la parte davanti o più tesa ne facciamo di meno allora adesso mi sposto sto lavorando io preferisco lavorare con il tre e mezzo ma vi ho fatto vedere le due possibilità allora adesso io vado a lavorare qui faccio sempre una maglia bassissima allora adesso vado a lavorare una maglia alta lavoro le tre maglie prima seconda e la terza lavoro la seconda quella successivo e poi realizza un aumento l'aumento lo faccio tra le due maglie ecco qui sempre la stessa lo stesso modo che abbiamo già fatto a cui vado a fare in questo modo e proseguo poi sempre 2 due gruppi da tre lavoro e l'aumento poi questo lo sposto che utilizziamo questo colore e poi la per tutto il giro e poi vado a lavorare dei punti normali non credo che farò ulteriori aumenti ma se occorrono possiamo fare anche altri aumenti proviamo il cappello vediamo se ci piace più ondulato ci piace più dritto allora ho completato come vedete qui c'è dove abbiamo realizzato gli aumenti e ho fatto uno due tre quattro quattro giri col punto granny tranquillamente ma se poi ho concluso con la maglia bassa se vi piace è questo insomma non è in base se vi piace oppure no allora in questo caso come vedete non è proprio non ha un volà sotto come vedete è perfetto per cui bisogna stare attente agli aumenti vi dico pure quanto vediamo un po dove sono gli aumenti d'acqua dall'aumento sono cinque centimetri perfetto per cui questo poi dipende da come lo volete fare se vi piace leggermente più ondulato il cappello alla parte insomma sotto vi piace più ondulato fate più aumenti così io l'ho fatto proprio preciso 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 per questo filato insomma il punto granny super facile da fare ma con attenzione utilizzate sempre il centimetro se utilizzate un filato diverso da questo io vi ho fatto vedere che ho iniziato diciamo la base con un 4 sono riuscita a stringere un po il filato e con tutto ciò sono arrivata ai 14 cm diciamo proprio la base la base centrale sui 14 cm non andate oltre perché poi lavorando i due lavorando poi giri di punto granny senza aumento comincia poi a prendere a prendere ancora qualche qualche centimetro per cui mi raccomando attenzione molto diverso andrà a lavorare a maglia alta quando arriviamo sui centimetri che ci occorrono e diciamo questo poi dopo si allarga ancora di più lavorando altri due giri per cui ho dovuto fare molte prove sembra una stupidaggine ma le prove ci sono state come vedere il cappello ha proprio una base sotto vedete proprio la base allora spero che questo tutorial semplice ma diciamo con attenzione diciamo così potete scegliere qualsiasi tipo di filato che vi piace io usando lo zephyro ho trovato diciamo il punto giusto poi rifinire sempre a maglia bassa se volete se volete allora io vi saluto ci vediamo ai prossimi tutorial sempre lunedì venerdì ma poi ci vediamo il mercoledì vi ci vediamo con le live con il video della domenica vi ricordo il blog sempre luanadolciriflessi.com instagram oggi vi sto dicendo tutto e poi vi ricordo anche il gruppo luanadolciriflessi un bacione a tutti su facebook un bacione a tutti ci vediamo ai prossimi tutorial